In settimana disposta la riapertura del mercato del mercoledì e del contadino che si svolge in via Cosenza. Riaprirà questa settimana il mercato del mercoledì lato chiesa San Metodio solo per la vendita di prodotti elementari. Sabato invece riaprirà il mercatino del contadino che si svolge in piazza Ernesto Cosenza. La riapertura delle due aree mercatali è stata disposta con una ordinanza firma del sindaco Francesco Italia. La comunicazione arriva dall'assessore alle attività produttive Cosimo Burti che comunica altresì che permanerà a chiusura dei mercati della domenica che si tengono in piazza Santa Lucia e in Ortigia. L'amministrazione comunale ha detto l'assessore Burti ha da sempre mostrato particolare attenzione per il settore mercatale dando sin dall'inizio un forte e concreto segnale di vicinanza non interrompendo l'attività per il settore alimentare sui due mercati rionali di Via Giarre e Via da Benedictus e quello settimanale del contadino che si svolge tutti i venerdì in piazza Ada. Gli uffici, ha ancora detto l'assessore Burti, sono già al lavoro per programmare sin da subito i nuovi schemi di riapertura delle realtà non ancora riavviate, compreso il settore non alimentare che fino adesso è stato oggetto di maggiori restrizioni. Appena usciranno le nuove disposizioni del Governo nazionale e regionale, l'assessorato delle attività produttive sarà pronto a garantire la ripresa dei mercati nella loro interesse garantendo sia agli operatori che agli utenti il rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica.